Dopo quattro anni sarà riaperta al transito veicolare via Arcomirelli, chiusa dal 4 marzo 2013 per il crollo parziale del Civico 72 di via Riviera di Chiaia. I lavori di ricostruzione del cantonale dello stesso Civico proseguiranno grazie alla realizzazione di opportuni punteggi che garantiranno il transito in sicurezza. All'apertura sarà ripristinato il senso di marcia. Un intervento atteso da tempo dalla città che consente di avviare una riqualificazione complessiva dell'area. Infatti sempre in questa zona entro il mese di luglio saranno avviati i lavori di riqualificazione di Riviera di Chiaia. Residenti e commercianti della zona esprimono soddisfazione per il ripristino della viabilità. Spero che adesso si lavora un po' di più. Naturalmente è un disagio, ora adesso siamo felici. Io preferirei che non si apriva proprio, rimaneva così solo per i pedoni e non per le macchine. O perché abito in un basso e la comodità era tanta. Dopo quattro anni e mezzo di strada chiusa, all'improvviso eravamo completamente isolati. È ovvio che avevamo perso la speranza. Noi avendo un'officina è stato molto tragico, non passare più auto e tutte queste cose qua. Adesso che hanno aperto siamo molto felici. Arrivare giù alla Riviera si doveva fare un giro immenso. Era ora che aprissero sta strada perché veramente per poter passare si faceva un giro enorme. Chiaramente è stato veramente una grazia di Dio. Grazie. 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 Grazie.